Anziani soli che hanno bisogno di semplice aiuto materiale, come fare la spesa, comprare le medicine, ma anziani che hanno soprattutto il diritto di recuperare una vita relazionale con familiari e amici. Per cercare di rispondere a questi bisogni è nato il progetto pilota di quattro settimane di assistenza domiciliare denominato Anziani Estate 2022, Sì alla vita, promosso dal Centro Aiuto alla Vita e dal Comune di Pescara. Tanti partner che hanno aderito Movimento della Vita, Unitalsi, Radio Speranza, Parrocchia, Cuore Immacolato di Maria e le cooperative Camilla e Il Germoglio. Le forze in campo, tre persone si occuperanno della gestione del progetto, cinque gli operatori a domicilio disponibili due volte a settimana per un'ora e mezza. Il limite di assistenza è calibrato per dieci persone, ma è probabile che verranno accolte altre richieste. Sull'iniziativa presentata in Comune sentiamo Patrizia Ciaburro e l'assessore Nicoletta D'Inisio. L'idea iniziale è stata dell'assessore Nicoletta D'Inisio che ha ricevuto degli input dall'esterno rendendosi conto dei bisogni di questa città, ha convocato il Centro Aiuto alla Vita per stabilire insieme una rete amicale, una rete di sostegno, una rete di ascolto per gli anziani che in questo periodo particolarmente rimangono soli. Al momento questo progetto pilota coprirà quattro settimane, però... Quattro settimane, però, queste persone, se sono veramente soli, lo saranno a ottobre, novembre, dicembre, sotto le feste, a Pasqua, a Natale, purtroppo. Questo è, come dire, un assaggio, una prova, un esperimento. Tutti noi abbiamo degli anziani dentro casa, abbiamo un genitore e quel genitore è diventato nonno che ci accudiscono i nostri nipoti tutti i giorni. Abbiamo voluto sensibilizzare e aiutare anche le famiglie. Questo per non lasciarli soli, per farsi una chiacchierata e per stare a loro disposizione in qualsiasi ora che ci poi possono chiamare e quindi noi ci siamo. Questo è in via sperimentale, vediamo come va. Io penso, insomma, già abbiamo ricevuto parecchie telefonate e mi auguro che per, insomma, di proseguire questo sperimento che stiamo facendo perché è importante. Chi sono le persone che andranno a casa di questi anziani? Sono tutti operatori che stanno a disposizione del CAV. Abbiamo un avvocato, abbiamo una semplice mamma, un medico, un assistente sociale. Sono tutte persone qualificate e con esperienza.